Siamo qui per chiedere che vengano rispettate le leggi e che questi lavori bocciati dal comitato via della regione Abruzzo vengano finalmente annullati con un intervento deciso della regione e dei comuni interessati e si cominci finalmente a respirare e a capire che i fiumi non vanno più toccati. Una provocazione, così gli ambientalisti e le associazioni dei commercianti hanno definito il cartello di inizio lavori apparso questa mattina nel terreno dove dovrebbe sorgere il Megalo 2, proprio davanti il centro commerciale inaugurato nel 2005. Il cartello omette alcune informazioni necessarie e dicono a partire dalle autorizzazioni, molte delle quali sono già scadute o in scadenza. Il comune di Chieti, su cui in parte ricadrà l'opera, per buona parte invece nel territorio di Cepagatti, chiede l'istituzione di un tavolo per riconsiderare il progetto facendo ripartire l'iter di valutazione ed impatto ambientale. Il comune di Chieti si è anche espresso con un atto formale, cioè una diffida all'asile costruzioni, a non iniziare i lavori perché per noi è ancora valida l'ordinanza di sospensione del gennaio 2014 del genio civile. Tecnicamente chiediamo un tavolo di lavoro in cui si vadano ad analizzare le diverse problematiche, quella di tipo giuridico, quella di tipo commerciale, di tipo economico e soprattutto di tipo ambientale. Secondo noi dovrebbe ritornare al via, quindi riniziare un iter. Oggi siamo alla scadenza definitiva, cioè 31 dicembre 2017. Se entro questa data i lavori non sono iniziati, decadono i progetti plus e quindi è questo che l'impresa vuole evitare facendo fin da che tutto procedi. La questione megalo 2, oltre a riguardare la tutela dell'ambiente perché sorge sulla cassa di espansione del Pescara, ha carattere socio-economico. Un altro polo di grande distribuzione infatti rischia di ammazzare definitivamente il piccolo commercio della zona di Chieti. Per questo esercenti, ambientalisti e politici stamattina hanno presidiato il cantiere, dove però attualmente non si sta lavorando, c'è solo una gru e qualche operaio in perlustrazione. Chieti non ha bisogno di un nuovo insediamento commerciale. Questa ulteriore cementificazione andrebbe a decretare la fine non solo del piccolo commercio e dei piccoli artigiani, ma la fine della città stessa perché si sta creando una città nella città. Ci sono studi che dimostrano il fatto che per ogni posto di lavoro che si guadagna con l'apertura di un centro commerciale se ne perdono sei nelle attività tradizionali. Quindi tutti questi commercianti che sono qui oggi sono destinati a chiudere bottega se megalo 2 dovesse essere costruito. La posizione della Regione Abruzzo viene affidata ad una nota dell'assessore Paolucci, in cui si ribadisce che il Comitato Via, già nel marzo scorso, ha giudicato improcedibile la richiesta di modifica del progetto e ha prescritto come obbligatoria, prima dell'avvio di qualsivoglia attività realizzativa, la verifica dell'efficacia delle opere di messa in sicurezza ai fini idraulici. Paolucci ricorda che lo scorso 7 dicembre sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Chieti e alcune anomalie riscontrate nella documentazione presentata dall'azienda costruttrice, la Sile Costruzioni. Non permetteremo, termina l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, che si evitino le procedure previste dall'ordinamento e soprattutto diciamo no alla decadenza ambientale, alla diffusione di situazioni di pericolo e alla rovina ulteriore del commercio della zona.